Siamo al match Botticelli, Botticelli Gang Rise Up. No, no, io sono Pedrasts e Fonboi e Nittels. In effetti anch'io ho fatto l'errore, perché di solito sai che nel Fanta non dovresti mai mettere due giocatori l'uno contro l'altro nel tuo stesso team, però voglio dire, se il Botticelli Zero Val mi costa 43 crediti, io posso esimermi dall'acquistarlo per il mio team in quanto MVP fattuale, statisticamente aderente della settimana 1? Dimmi un filosofo greco. Platone. Io ho il Platone del Rinascimento. Omitez, anzi no scusami, Fonboi, visto che è greco. Ah, lì ti serviva, ok. Grazie. Capito. Gentilissimo. Io, allora, abbiamo Platone contro Botticelli. Rinascimento Botticelli. Tutta la vita. E parlando di Botticelli, io ti dirò di più una cosa. Dimmi. Ho preparato una grafica a tuo supporto. Io ho preparato una grafica a mio supporto poi. O farò la mia speech, il mio monologo, per cussarla a zero. Io ti faccio vedere una grafica... Aspetta, aspetta, aspetta. Prima... Che grafica hai in mente, scusami? Se si vede, la mostro. Allora, andiamo prima a far vedere la grafica su zero, per favore. Questa? Questa che ho io? No, no, quella che ho io. Ah, ok, quella che hai per tutti noi. Zero, allora, perché mi batto su questo fronte dell'MVP di zero? Perché Kaiden ha fatto una partita importantissima, ha fatto una serie di partite importantissime. Però queste stats fanno numericamente di zero l'MVP di settimana scorsa. Poi, è chiaro che le stats vadano contestualizzate. Kaiden ha avuto un ruolo centrale nel 3-0 dei Desire. Mentre comunque Zero non è bastato ai suoi per andare sul 3-0, per essendo stato gigantesco. 19 per 100.4 di First Blood. Su Sentinella, vuol dire che... 66% di attacking wing rate. E' tantissimo. 75% di average combat scorso la Sentinella è assurdo. La First Blood percentage vuol dire che i round dipendono tantissimo dal successo dei suoi lurk. C'è anche da pensare al fatto che lui in Fracture ha giocato da solo 1v4. Non lo vedono, mi dispiace. Oggi mi senti... Aspetta, aspetta... Un attimo, un attimo... Veloce, veloce, veloce! Veloce! Non si vede! È... Zero sul Sentinel e zero sullo Yoru. Se zero mi gioca Yoru, io faccio di tutto per renderlo MVP di questa settimana. L'ho detto. Non accadrà. Non accadrà. Perché siamo su Icebox, se mai c'è bisogno di fare un raddoppio, quindi un movimento per cui togli zero, sposti su Sentinel qualcuno... No! Non si fa. Non si fa. Abbiamo Alan che sta giocando in l'Initator, quelli un pochino più aggressivi, che prendono spazio, quindi Sky con le Flash. Potrebbe essere Alan che magari si sacrifica e flexa su un secondo controller, visto che sembra essere meta di tentativi di Harbour su Icebox da affiancare o a sostituire il controller, ma questa è un Icebox che ormai stiamo imparando a conoscere. Lo vediamo adesso. Abbiamo subito quindi gli agent che sono stati selezionati per questa Icebox. Beh, sarebbe una bella conferma avere Harbour, perché sta meritandosi molti spot nella preparazione dei team. No. Siamo di fronte alla composizione. Per quanto riguarda i WLG più classica, sì, è la composizione di Icebox.jpg, quindi con la Sage, con Jet come unico duelist, Viper come controller e Sova Killjoy imprescindibili. Per quanto riguarda i Machko, perdi sulla Sage e vai ad ottenere un pochino più di propensione offensiva ed esplosività nei retake con il Breach. Mi piace, sono due scelte che sono assolutamente condivisibili. Quindi, se però posso dirmi sorpreso di qualcosa, è della presenza di Masser sul brice di Sova Alan, perché fino adesso l'initator, quello appunto un pochettino più aggressivo, quello più ibridato, intrinseco con il duelist, lo stava giocando di solito Alan. Però devo anche dire, Alan, non me ne voglia se evidenzio questa sua statistica, è tra i peggiori, statisticamente parlando, dell'intero campionato. È un giocatore che si è sacrificato molto, evidentemente, che ha anche fatto molto gioco di informazione e di scapito del suo average combat score. Naturalmente le stats di cui parlo sono appunto combat score, KDA, quelle che da fruitore del Fantavalo guardo per prime, ma non sono assolutamente lo specchio delle performance dei player. Non è semplice valutare la performance di un giocatore sulla base del KDA, non si fa. Si fa solo per il Fantavalo, esatto, si fa per il Fantavalo, ma siamo nel vivo di questa Icebox, ultima mappa di giornata. Drust con Frenzy, eh? Drust con Frenzy, a voler massimizzare il potenziale esplosivo della sua Jett. Due list che si sta distinguendo tra i migliori di questo campionato, un po' altalenante su performance, ma per lo più positiva nel 2-1 dei match, dentro Guki ha battuto. Primo sangue proprio di Drust. Allora! E due per zero. Fa male trovata una. Cerco il lato positivo in questo caso. Rimasto solo Sise. Lui contro il mondo. Mi diventa molto difficile raddrizzare il round. Che cosa fai qui? Tim Moli Sono contento Sono due per Drust Siamo di non essere troppo di parte Ok, poi la ritorniamo seri Siccome non essere di parte Perché ho Mitez, era discorso Mitez che è stato, ecco Lui pur giocando controller è stato tra i giocatori Secondo me lui e Zero Sono stati due giocatori che dalle retrovie Hanno dato più spostamento Sì, sì Sì, sono d'accordo Pur non avendo dei ruoli che fanno del KDA Una statistica particolarmente indicativa Perché non devono entrare, cercare le kill e aprire i site Sono stati due giocatori che lo hanno fatto Quindi hanno sicuramente fatto di straordinari Zero Mitez settimana scorsa E ora si scontrano per sbloccare La situazione di pubblico 2-1 Fanboy col Marshall su Alan Ero lì pronto Brevissimo fanboy A prendersi mid, ora così si possono spostare Devono ruotarsi i giocatori dei match Lasciando solo Il povero Byron In B Ricordiamolo Byron Che ha avuto dei problemi computer Ha dovuto fare 5 ore di treno Per poter giocare le partite Quindi Attenzione Quello che succede Westy Con la sua arma Va avanti L'orb Si a prendersi dei rischi con le pistole Anche se è l'uomo in più Cerca di occupare spazio E trovare una destinazione Per questa spike Westy Che swinga Trova la testa di Byron Zero su Kukki Vince il duello tra i lurker Troppa la spike Fa male C'è anche Drust con il Vandal A disposizione Sise Mette basso di salute Il giocatore avversario Ora si va A piazzare la barriera Per permetti Prendere la spike E poter ruotare Insieme ai suoi compagni C'è Anche Mettez Con l'arma Red Westy Ha rubato Il Anzi L'Aspetro Westy con L'Aspetro Di HP Era 5-0 Con Dano Manca un solo Nel E poi Drust Mi sono perso Perché non mi ricordavo Il nome dell'abilità Nano Swarm Nano Swarm Molto facile Era solo per Perché dall'Italia Nanno Sciame Il bene amato Nano Sciame Che tanto piace La nostra chat Che non nomineremo Mai più Vabbè Però Drust sta giocando Molto bene Siamo una valigia In questo momento Siamo una valigia Parli Della P.O.V Sei una valigia All'aeroporto Ah Ragazzi Sto invecchiando male Dovete capire anche me Sorry Ok Arriveremo però Del nostro padrone Chi lo sa Magari siamo Un bagaglio smarrito Tacco Di full buy Per i VLG Chiamati a contestare Il bonus Insistendo molto Su questa Apertura Su B-Site Veramente comoda L'abbiamo visto Utilizzata tantissimo Anche in Humboldt Svide 1 Trova 1 Però attenzione a Drust La sua posizione Molto buona Attenzione qui Fa un bagno E trovo un altro B-Site Di nuovo Adesso con questo muro Buy round Vanno a far Molto male I macico Ma noi dobbiamo fare Anche le nostre prediction Le nostre prediction È vero Hai voluto Mantenere la tua tradizione Cioè quella del Non votare mai A favore Dei macico Io Ormai sono salito Sul Solo 0 train Quindi Ce l'ho al Fanta Vuoi che gli tifo contro Allora Cosa molto interessante Vedere come Al primo Vero Buy I VLG Vincono in round C'è ora Buy contro Buy Perché Quello era il bonus Più o meno Dei Macico E Ok Ma poi Scusami Scusa Poi si accende Il mio platone La frag Per aprire Tra l'altro Battendo La jet Nemica E Solito muro Difficilissimo Da counterare Su B site Oddio ho avuto paura Pensando che fossero I giocatori di macchia Deve Sta lurcando così lontano Alla fine non è così Qui Fanboy Tiene in container Mentre Sta aspettando la rotazione Dei Giocatori Dei Suoi compagni Aftershock Per controllare yellow Non c'è nessuno Master Decide di aritrare E Di dropparsi 50 secondi Non sono ancora Un tempo Sufficiente Per la difesa Dei masco A decidere di ruotare Tutti i propri uomini Sul site Ma partire in Curritay 4 contro 5 Sarà difficile Master Però ci metto una bella pezza Trovando ore Questi Fault line Tra poco sta anche per scendere il muro Sì sì Eccolo qua Fanboy Si nasconde dietro yellow E Sise Alla sua sinistra Mentre Kuki controlla un possibile flank Vediamo la posizione Di zero Che decide di andare con i suoi compagni Torretta Non è ancora a disposizione Perché la vediamo ancora in kitchen Flash point Tensione a Sise Che ne prende uno Prende due Fino male ci pensa zero Si decide di salvare Ha perfettamente senso Hai un round molto scomodo A livello di economia Sul round 5 Non è probabile Riuscire con così poco tempo Sul cronometro La spike che ticchetta Andare a vincere un 2 contro 3 E avere anche tempo per il defuse Salvi questi due fucili d'assalto E provi a utilizzarli Nel round di Echo Per gli altri tuoi compagni Che sarà appunto il quinto Semplicemente per utilizzarli Per fare male all'economia di VLG Che hanno il proprio buy E nel caso di due giocatori Tre giocatori Che dovenia Hanno anche il cosiddetto Buy di backup Il buy extra Però vanno bene Questi due fucili d'assalto Per provare a fare male all'economia Stanno muovendosi molto bene In apertura di round Fanboy e Mitez Trovando molto spesso La via del primo sangue nemico Adesso forse è il caso Di adottare un posizionamento Un pochino più safe per Drust Che sta mettendoci sempre Lui la faccia Per giocare Un pochino più volentieri Di ritec da subito No Non sono di questo avviso Anzi Prendono un sacco di spazi Magico Guardate dove sono arrivati Byron E zero Che arriva qui Fanboy grazie a roba allarme Anzi Grazie Scusami Non è roba allarme Mia colpa Si trattava del Fight Di joy Che piazza la sua 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 Lockdown Byper's Bite No Snakebite Chiedo scusa Snakebite Viper's Speed La ultima Stai confondendo Sì sì Ma Monique Ma Monique Ricordo Rende anche vulnerabile E quindi vuol dire Più danni che entrano Quando viene colpito il giocatore Spike ancora Non online Muro Non può tutti male Ora provano a giocare Intorno alle posizioni Posizione Zero Nelle sue mani A questo punto Bisogna Riuscire a vincere Il duello Con Fanboy Sembrava una missione Impossibile Nell'apertura di questo game Sette Le uccisioni Collezionate in 5 round Da parte del Duelist greco Sembra essere La ventata D'aria fresca Questo attacco In rush Sulle site Trovano Un giocatore A ripulire il dardo E prendono un sacco Di spazio Su belt Hanno già il cross Rivolto Su screen Pian piano pulito il site Anche con l'aiuto Del drone Di Sise Potranno andare al plant Spike ancora Però non è online Arriva il dardo Stordente Da parte di Alan Poi anche con L'utilizzo Nelle Proviabilità Drust Sul cookie Subito Far buon uso Del superator Drust Sta controllando Attenzione Alla specie Viene Piazzata Di 0 Deve fare Un buon lavoro Sui compagni Di test Non ci riesce Zero Lavorava meglio Anche la foglia Del cacciatore Di Sise In snowman Non si trova nessuno Due Red Sti Boatline Sta controllo Insieme a fanboy E A Sise Il fanboy Di nuovo Fanboy controlla Sti Bravi a swingare assieme 1 Zero e master Master versus fanboy Chi avrà la meglio Smirata di fanboy Master non può schiccare Defuse Fanboy Fanboy Disinnesca Il disinnescatore Lo chiamerò Fidia Peccato 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 Stanno davvero mosso Un bel passo Assieme Zero e master Swingando da orange Trovando l'uomo Ma mancava Info sulla posizione Di fanboy Che ha trovato Zero E poi master Che doveva anche Impegnare le mani Con il defuse È stato trovato da fanboy Per un'altra uccisione Sono 4 a 2 I WLG Alla faccia del team Da presunta Fondo classifica Stanno performando Divinamente 2 a 1 Come i macico Ma col vantaggio In questo Match d'apertura Della settimana 2 Proprio contro i macico Stanno Beneficiando Devo dire Di un fanboy In groundforma 1 Mitez 2 Mitez Questo è 4 Non c'è l'Ace Ci pensa Drust Tratto anche La stingerata Su Sise Non mette a segno I colpi Sise Smiratina E Westy Chiude La pratica Che dire Non Non me l'aspettava In realtà Questa perdita Di momentum Da parte dei macico Morphe sta ancora aspettando Lascia cucinare I suoi ragazzi Come si suol dire Vogliamo vedere Un altro round Da parte di Drust Con l'operatore in mano Forse prima di chiamare La pausa Va detto che Dopo il pistol È stato buio totale E Su una mappa Non facile Da attaccare Sta venendo Particolarmente Semplice Voleggi Collezionare punti Dal lato d'attacco Sempre ovviamente Con questo default Offensivo Cattivissimo Da parte della Viper Che mette Questa muraglia Su B Stavolta però Al muro Di Viper Su B Corrisponde Un attacco a 4 uomini Su A Questa sfera Verenosa Dovrebbe dare La possibilità A Zero Di poter ruotare Di essere più aggressivo Fanboy Prova a mettere pressione Nella parte destra di A Sentono i colpi Quindi capiscono Drust Con l'operatore in mano Mites decide Di ruotare Qui Daranno probabilmente La call Attenzione Fultline Disposizione Per distruggere Anche il muro Red West Arriva Eccolo Thunder Che Si mette in difficoltà Notazione Rivelo l'area Fa vedere gli utilities Flashpoint utilizzata Da Master Non è tanto Non sono tanto Le utilities Che mi preoccupano Perché comunque Ne avrebbero Ancora Ma È il tempo Che scarseggia Quindi Cosa è più probabile Eccolo il gioco Sì Ma giustamente Alla stesse parte Tagliano bene La linea di tiro Da sotto Rafter Verso la zona In cui si spona E Mites può anche Calare Questi L'oscurità Questo site Alan Alan Spike online Però Bravo qui Alan Che ne trova un altro Alan Meraviglioso Ci prova Cookie Ma non ci sono biscotti Ma non ci sono biscotti Per i ragazzi Di WLG In questo round Li ha lasciati cucinare Il buon Morphy E ne ha avuto ragione Un buon round Di full buy Non è andato a Rompere Il momentum Che Effettivamente I WLG Stavano avendo Dalla loro Ma ci hanno pensato I suoi ragazzi A mettere un bel round A segno Con un retake Puntuale Ci ha voluto Un ottimo gameplay Da parte di Alan Che ha trovato Le prime due uccisioni Della sua partita Hanno strappato Un round Di WLG Con Mites Che ha impiegato Il Viper Speed Questo Va sottolineato Una Ulti preziosissima In post plant Alla quale Solitamente Corrisponde Il punto Sulla scoreboard Non stavolta Puntuale Magico 3 a 5 Il Viper Speed Ora ce l'ha Byron La Fury's Hunter Hunter's Fury Ce l'ha Il buon Alan Tra l'altra parte C'è la resurrezione Per Westy Qui la rotazione Sembra Chiamata Per i giocatori Dei WLG Dato che c'è La Vipers Nest Pit Pit Sì Vabbè Nest Pit Insomma siamo lì The Last Un attimo Non si incontrano Rettore Rettore Il corpo di Dust Il corpo di Westy E poi si Primo sangue versato Qui Westy cade Cade anche Resurrect Byron All'interno Del suo pit Senti Provano sparare La falcione di Sisemite Non miravano nella stessa direzione Che cacciatore Focco di Dusty Meraviglioso ci pensa fanboy Almeno a difendere Da precavoli 30 secondi Prende Uuuuh Disposto a provare Il punto Uno contro tre Droppando l'operator Ok Ballsy move Di fanboy Attenzione qui a Master I danni arrivano Prova a mettere Ora avanti La posizione Uno ma non due Master Meraviglioso Col trade Coraggioso Qui fanboy Forse folle Lascia stare l'operator Per cercare L'uno contro tre Effettivamente Tra l'altro Non da una situazione economica Felicissima Per i suoi WLG Questo è l'ultimo buy A cui possono andare Avendo perso due round di fila Se dovessero perdere Anche questo terzo Sarebbero in eco Sì Sarebbero in eco E allora Sarebbero guai seri Diciamo che Fanboy voleva portare avanti La possibilità Perché se avessi vinto Quei round Avresti avuto La gloria e la fama E figlia Quando costruì L'acropoli di Atene Wallbang è arrivato Si si è smezzato Arriva anche Il lockdown Questa è la Cultura Anzi È L'intelligenza Dell'Hitek tedesca Di Cookie Fantastico Tanti danni ha già raccolto Tra il Bang Su Sise E questa kill Su Westy Trust sta Iniziando col piede giusto Questa settimana 2 Zero Ha trovato Mitez Intanto Il solito Lurk di successo Per la sentinella Dei Machko Un lusso Poter giocare Sempre con l'uomo in più Se poi ci pensa Il tuo due list Ti aiuta tantissimo Anche mentalmente Cookie e fanboy Vogliono piccare Verso il giocatore Ma è Trust Averla meglio Bravissimo 30 secondi rimasti Si invola Con la Bladestorm La quadrupla Per noi Banger Round Per Drust L'abbiamo detto L'ultimo buy Prima di un forzato Eco Ci sarebbe forse L'opportunità Di arrivare ad un acquisto A patto che Cookie sia l'ultimo Sì Effettivamente Se compri adesso Seppur lasciando Cookie a piedi Ti puoi permettere Di fare Un dodicesimo round Eco In tuo ultimo round Della half buy Giusto o no Lodicesimo round No 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 Siamo bugiardi Siamo bugiardissimi Fai buy adesso Ma non fai buy dopo Quindi Secondo me Qui Istinto Divede un po' Dubius dice Ragazzi Sono round importanti Sono round importanti Perché fanno la differenza Tra chiudere l'alf Sopra o sotto 7-5 Molto buono Se attacchi È quasi devastante Per la difesa Risultato invertito La difesa può dirsi contenta Sono due round molto importanti Stanno forse anche decidendo La situazione economica Perché Appunto Solo uno Di questi ultimi due round Potrà venire disputato Con il full buy Se dovessero perderne Questo undicesimo Quindi Delicata la situazione Avendo la res Da parte di West Ancora da spendere Contro la lockdown Di zero Allora il discorso è che Bisogna anche capire una cosa In questo momento I VLG potrebbero Andare a prendersi un orb Dalla Assise E poi però deve fare qualcos'altro Quindi forse vale la pena Andare eco adesso Accettare magari anche Di perdere il round Però prendendosi la orb Però prendendosi una orb Lottando molto per una orb Per avere poi la risposta Al lockdown Non lo so È molto close Come è chiamata Forse proprio per quello Istinto ha individuato Un ottimo timing Per il suo time out Diciamo che comunque Comparando adesso Puoi forzicchiare qualcosa Comunque dopo Che siano Spectre Light Shield Ah una cosa tecnica anche Che siano Dicevo Spectre Light Shield Stinger Scudo pieno Insomma ti arrangi Anche sul dodicesimo Qualcosina compri Quindi forse adesso È un momento Per dare l'acquisto giusto Però Non è stata Una buona finalizzazione Di questo ALF Perché trovatisi Su quel vantaggio Di 5 a 2 VLG Avrebbero voluto Compiere l'impresa Di andare almeno Sul sesto E poterlo chiamare ALF in parità Ecco Tech Pause Posso chiedere un favore Ho bisogno di un bel popazzo Di neve per favore Signori della regia Observing Quello che volete Siamo rompiscato Lo so Ma mi diverto Infatti come vedi Ti ignorano Fanno bene Senti Allora Su altri giochi Dite che è il collo Quello che decidi Di fare le cose Qui Voglio iniziare una nuova egemonia Infatti Stai venendo ignorato Vedi La vita La produzione sa Qual è la legge naturale Fatto di fate Dei play by play Bullizzati al desk Ecco i perché mi chiamano come Ho questa? Yes La so questa La indovini con una? La indovino con zero Perché la sapevo già È una di quelle Interazioni un po' losche A limiti del bug abuse Però È una Nanoswarm Impossibile da rompere Come ce n'è tante Sono Molte Di queste aperture Particolari Ah Attenzione È proprio questa Molly La ragione Non riesce A Raccogliere La molly Nanoswarm Perché si è Nanoswarm che rientra Nella categoria Delle cosiddette molly Perché fa un effetto Molotov È proprio quella La ragione della nostra Technical pause Eh La nanoswarm si è Incastrata in un punto In cui non può essere Ritirata Ci sono molte molly Molte di queste nanoswarm Che vai Intenzionalmente ad Incagliare Tra diversi Elementi Della mappa Per renderle Impossibili da rompere E evidentemente Questa Non era prevista Perché di solito Quelle molly Quelle nanoswarm Le puoi anche raccogliere Quindi questa Evidentemente è finita Là in mezzo Pensava di poterla raccogliere Deve aver incastrato Il buon zero Con i suoi superpoteri Incredibili Un angolo Dalla quale non può Ritirarla E quindi Eccoci qua Mi fa troppo pensare Al fatto di quando Sei tu che vuoi prenderti Il lapis In mezzo A due mobili Signore il lapis Lo sai che c'è Un solo Posto In tutta Italia Dove la chiamate così E che nessun altro Sa che cos'è Appena detto Spiega cos'è il lapis Visto che tu lo sai Il lapis Che so Cos'è Grazie alle parole crociate E non grazie Alla mia lingua natia È la matita In Forse Neanche in toscano Forse È fiorentino Voglio cercarlo Ora Secondo me Lo dicono solo a Firenze Poi Un incontro Per questi Viene Poi in favore di Zero Ancora una volta Anche L'after shot Mites Guarrito Zero Meraviglioso Fa due Non perde neanche Un punto vita Funzionare i Westy Fight Contro Zero Finalmente Westy vince Comunque Una situazione di 4 Contro 2 Abbastanza disperata Beh questo è il round In cui ha senso impiegare Questa resurrezione Perché vai su un alleato Con arma Dopo potrebbe non andare Altrettanto bene Come non detto Westy K Mi sa che è 7-5 Ma lo sai Perché Serve il miracolo Nel dodicesimo Perché avranno Un buy Molto Stream in situ VLG Sì Tanto che Cookie ha perfettamente Ragione Nel voler salvare Paparenzi Volevo cercare La parola Lapis Per capire Sulla tre cani I lapis De Quelli di Vornizio Poi di rispetto C'è un plotone D'esecuzione A proteggere La spike Sicuramente Chi sta facendo La scelta giusta I steps Da poco Master Gli finisce Nel crosshair Ma con lui Ci sono anche Alan e Byron 1,2,3 La stana a vuoto Una morte Un po' gratuita Questa Ma Alan Inzecca L'uccisione Ma si è disposto A tradare Pur di togliere L'unica arma Di un team Che non potrà acquistare Quindi assolutamente Un sacrificio Che vale la pena Di essere compiuto Eccolo qua Il buy Dei VLG C'è In realtà Ha la possibilità Se non altro Di andare per Scudi piccoli E vandal E vandal O scudo grande Se accetti Di giocare Il bulldo Noi due Era matematica Siamo un po' Un problema Perché? No no L'avevo almeno Contemplato Che non fosse un full buy Ma di poco Perché Non è full buy Perché non ci sono Gli scudi integrali Non Non erano così Messi male Da avere addirittura La forzatura Sulle spectre C'è qualche centesimino Nel portafoglio Le monetine di rame Avevano salvato qualcosa Tanto fanboy Tanto fanboy va Verso la zona Di yellow Hanno una buona Ligno di tiro Master è pronto Con il suo fault line Mentre Mitex Manca poco Qui Drust ha Un ruolo importantissimo Perché sono tutti su B Avendo visto Fanboy Ruotare in quel Modo Non ucciderai Tra i westi subito Dice Fermi tutti Tiratemi Fatemi tirare Su quel luogo Swarm Westi Poveraccio Deve fare Deve ballare la samba Tra le nano swarm Di zero Anche qui Alla fault line Shockwave Campo minato Riesce a salvarsi Come fare Westi Spiegatemelo voi Perché non me ne è capacito Puro up Prova a vedere L'avversario Sono due red westi Sì ma Ho visto qualcuno Ah no Quello era solamente Sise Stava ruotando Attenzione qui Arriva 1 a 0 Prova a giocare intorno Trova red westi Poi subito tre dato Master su Mitex Fuori del cacciatore Fuori da parte di Sise Da solo Drust Non puoi niente Cookie Hanno fatto quadrare Come questo dodicesimo round Di WLG Vai era sufficiente A mettere il punto Della parità Sul cambio Side Passano all'attacco Imacco E devo dire Devono dare un bel colpo Di spugna A questo game A quanto fatto Nel primo half Perché quella sequenza Da cinque round consecutivi Da parte di WLG Pesa tantissimo Sul computo di sei round Per parte Sta sparando molto bene Drust Sta sparando molto bene Zero Dall'altra parte Fanboy Tiene testa Il duelist Nostrano Drust Stanno un po' arrancando Come purtroppo Sta accadendo In realtà Da diverse giornate Per quanto riguarda Le performance individuali Cookie E Alan Sicuramente Giocano ruoli Di grande sacrificio Per il team Mitez Così avanti Un sacco Di spazio Portline Che non prende Troppo a boia Da belt Decide di arretrare Per essere sicuro Alan e Master Sulla sinistra Di Sise Non vi vede Non va a sparargli Zero lo vede C'è il pick di Zero Che tiene info Adesso Con quest'info Potrebbero anche optare Per una rotazione Infatti li vediamo Che stanno ruotando Per togliere La posizione A fanboy Fanboy ha un Ruolo ora Perché Byron È di fronte a sé Un'altra volta Il muro è alzato Da parte Di giocatori di VLG Non si sa ancora Quale è l'idea Infatti vediamo Come Killjoy e Sage Sono molto più Passivi Byron trova la kill Su fanboy Mitez Byron con due Arriva anche la terza Di Byron Qui si ruota Cookie E Red West Spike piazzata Difficilotto Street take Hai un sacco Di diversi livelli A cui rivolgere I crosshair Infatti appena metti La testa nel site C'è zero E Byron Con la quadra Difficile Praticamente Impossibile Fare retake In inferiorità numerica Sui site Devi guardare NES Devi guardare Rafters Guardare sotto Rafters Devi guardare Sul Su quella struttura Ora non ricordo Il call out in inglese E da dove ulta Killjoy Ecco lo so perché Gioco Killjoy Si ulta da lì In attacco Quel box Se ti fermi a metà Della zipline Sai che c'è Quell'altura Guardare lì Devi guardare da belt Devi guardare da sotto Belt Sull'entrata dell'A site È veramente difficile Difficile Rafters Visto che dici così Rafters Rafters è Qua Te la indico Visto che ti posso mostrare Rafters è questa balconata Qui da cui accedi Dallo spawn E sotto Rafters Below Rafters Ok O se lo chiami Hell Tendenzialmente ci si capisce Byron 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 Ne fa sette in due round Intanto Ci pensa fanboy Però a portare Qualcosa In casa Dei WLG È lui È sempre lui Byron Pazzerello Ne fa otto In due round E va a marcare Stretto zero Dice se lui è Botticelli Io chi sono Leonardo da Vinci L'uomo del tablet Abbiamo imparato A conoscere così Nell'intervista post game Della prima partita Sono complimentati Per il suo brimstone Su Fracture Hanno schiantato i match Con l'ora 13 a 2 Gli outplayed Byron Ha top fragato Sul controller E complimentandoci con lui Ci siamo sentiti rispondere Ma io che ho fatto Io stavo lì Con il tablet A tirare i Beyblade Cito testualmente Il WLG Deve scendere Nella zona dove Volcatulta Se sei killjoy in attacco Nuovo call out ufficiale Signore e signori Si va Ora per Prendersi Ancora più posizione Drust Arriva Tube La chiamano Tubi Ho visto adesso Il call out in italiano Attenzione qui Master Trova Sise E poi fanboy Fanboy Abbraccione con la sheriff Decino di ruotare qui Cookie E Red West Gli ultimi due Rimassi siamo a Mitez Quindi 3 Con una volta Difficilissimo Uscire da questo Labirinto Di utili Di schiave su West Ora è arrivato Cookie Siamo a Mitez La doppia Bravo 0 1 v 1 E ce la fa Qui aveva Lui Cookie Il buon cookie Che ha minacciato Chiunque lo prenda Al fantavalo Dopo le performance Un po' Devo denti La prima settimana Di intenzionalmente Non pensiamo Che il suo Compromettere Di quello che ha giusto Secondo me è arrivato Istinto E detto Anzi Il CEO Dei WLG Una bella chiamata Como Il mio como Ha detto como Mi ha risposto Ne va del mio onore Devo intare Il fantavalo A tutti quelli Che mi piccheranno Ma sta performando Anche meglio Del suo solito Non sta avendo La partita Da trascinatore Ma non è lì A fare quello Lì a fare Il suo sporco Lavoro di sentinella Fanboy Ci pensa A Mitez A aiutarlo Poi fanboy Sono indietro Nell'ambito del basket Quello si chiama Un fade away L'ho appena fatto Il buon fanboy Stiamo parlando Per il caso Di Dirk Nowitzki Faranno proprio Di Wunderdirk Specialista Del fade away L'airone tedesco Quella che dovrebbe essere La gente tedesca In mano a zero Qui sta ruotando Controlla la posizione Di Rafters Arriva anche Una freccia Per capire Se c'è qualcuno Ben nascosto Col crouch Difficitissimo Ma Ha fatto un gran bene A fare quel crouch Stiamo Assistendo al migliore Utilizzo Di questo movimento Si si aveva rivolto Il crosshair All'altezza della testa Di zero Effettuato il pick Premi crouch Fuori l'avversario Ero veramente Sta facendo Stato di grazia Di queste settimane Davvero Meraviglioso Meraviglioso Spinti via I difensori Proprio da zero Magna secondi preziosi Sulla spike In tre contro tre Bites droppandosi Come Batman Trova un'uccisione Zero Granata piazzata Mettere molto attento Girono swarm Bellissimo Su Alan Un boy cade Poi spisi Continua Zero Bites tripla 1v1 Bites Ce la fa Ce la fa Esatto Visto quel cerchio Lino C'era anche un Ecco un secondo Abbondante Due quasi Eh sì Sì Bites Non trema Trema Alan In una situazione di tu per tu Tra Sova dei Macco La Viper dei WLG E Il Sempre eterno Mites Giocatore dal bagaglio Incredibile Meditato in alcune Dei più Vincenti Organizzazioni Turche Apposentando Molto spesso La sua nazione Alle massime competizioni Di Valorant E adesso è addirittura Qui a Benedirci Con la sua presenza E con Delle performance Veramente altisonanti Sin dalla settimana Del debutto Di questi suoi WLG 8 a 8 Thriller Di fine giornata Si sta consumando Poi uno Riesce a trovare Uno anche lui Travossise Trova a scappare Ci pensa a zero Sempre lui Botticelli Attenzione però qui Byron Errore Non vedere La posizione Fanboy tripla 1v1 Zero E Mites Di nuovo Mites Via il muro Hai un minuto di tempo Hai Tutto Quello che ti serve Per Fare un passo indietro La Viper Speed E Ritake Molto comodo Col Viper Speed Sì sì Io poi stavo più a zero Ora sinceramente Perché È lui quello che si deve Inventare qualcosa Piazzo un robo allarme Robo allarme per Rafters Torretta sta coprendo il flank Da spawn attaccanti Mites come dice Civi di tempo Giocare col tempo Dici anche bene Viper Speed A disposizione Mano Swarm Per togliere la linea di tiro Mentre pianta Che ora è meglio Che non viene visto Muro di tossine Non va a far finta Eh alzando il muro Che cazzo Per forza Clutch Di Mites Molto molto sveglio Mites La reazione più naturale Che zero può avere lì È sentendosi il muro Alzare alle spalle E preoccuparsi Che Mites Stia proprio varcando Screen O Rafters Beneficiando del muro alzato Di Non ti aspetti L'off angle Così profondo Eri appena stato lì L'ultimo di tuo pensiero È clearare il sentiero Che hai varcato Un istante prima Molto bravo Mites Non deve neanche investire La Viper Speed Andando Su un finale di partita Così concitato Con le due squadre Su 9-8 Vicinissime Noteranno punto su punto Per il finale Avere da parte Ancora Quell'ultimate così forte È Grasso che cola Veramente preziosa Svelo l'area Quando Mites fa questo Allora è Quasi magia Un boy Si è un attimo fermato A livello di kill Drust Byron Ha capito Che lì Vicino c'è Fanboy Con Mites Che si chiama Lì vicino Decidi di ruotare Da dietro La zona dei difensori Adesso bisogna Guadagnare effettivamente Delle info Però Stiamo ancora giocando Un po' sulla scommessa Un pochino al buio Già Che arrivino dei colpi Da belta A risolvere L'haul drone Di Sise Da informazioni Ai WLG A cui però Venne subito Inflitta una grave perdita Westy che va giù E sta succedendo Fin troppo spesso Westy Per essere tu Non sei su Keio Stasera Sei su Sage È indispensabile Che pesino Quelle cure E che non sia tu A mettere per primo Il crosshair Sui avversari Deve giocare Un pochettino più back Lui che sta giocando Effettivamente Più spesso L'initiator Con l'attitudine offensiva Capisco che faccia Anche un pochino fatica A regolare 30 secondi rimasti La levetta Della cautela Arriva anche Shockwave Serie di molli Da parte del giocatore Alan Drust Meravigliosi Non vuoi Deve ruotare In qualche modo Rimasto solo Mitezz Bellissimo Prendersi un picco Di una stanna Eh lo prende dopo Lo prende un attimo dopo Zero Salva Salva Tocca Un gran bel round Imacco Veramente Siano subito Risollevati Da quella serie Di 1v1 Vinti da Mitezz Molto intelligentemente Col Ghiaccio nelle vene Per Contro il player Turco Ok allora abbiamo Viper speed Per tutte e due Rolling thunder Rolling thunder E anche Il lockdown È un incubo Il post plant Per i VLG Sto pensando Non riescono a prendere Spazio mai nella vita Contro quella vita E anche l'entrata in sito Con master Che ha rolling pronto Dovrebbe venire Abbastanza facile Questa combinazione Di ulti Dovrebbe essere Nove volte e mezzo Su dieci Nove virgola nove Volte su dieci Un punto Sto pensando solo Al fatto che Sise L'unico modo che ha Per Salvare Il round Da un possibile lockdown È Prendersi O una kill O un orb Il fatto Come potete vedere I ragazzi Di VLG Grandi fanboy Vanno Per un eco Crederanno Molto probabilmente Un rolling thunder Nei denti E non riusciranno A fare niente In difesa Ci sta infatti Che giochino di stack Quattro uomini Sul sito E con le armi Che hanno Provi a fare in armi Ma Subito Contatto Con Alan Ne fa due Questa è buona Per l'economia Dei VLG Se ci pensi Anche se comunque Come devem vedere Drust e Arn Hanno Tutta l'economia Di questo mondo Non è che stiamo parlando Zero Veramente Il galaxy brain Avendo già La torretta In compruttura Del flank Non perde tempo Va In una posizione Molto migliore Ha addirittura Alzare Ulti E prende subito Spazio dopo Attenzione Bella Anche Robo all'arma È piazzato Rolling Thunder Vogliono tutto No 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 Questa non è bella Questa non è bella Effettivamente dovevano fare i conti Con una posizione un po' scomoda Con dei VLG che avevano ritrovato delle armi Però Le tre ulti contro l'eco Per farcela Al pelo Peraltro Rendevo Lg molto facile Il compito di salvare armi E andare a Difendersi Guarda Guarda Addirittura Oh Davo zero 3-2 Kilo Ok Questa di zero Salva Di molto la situa Perché va a togliere Un'altra arma E rendere complesso il buy Ai VLG Però stiamo comunque parlando di un buy Che era sicuramente asimmetrico In favore dei macico E che non doveva richiedere loro L'utilizzo di Tre Ulti Per il punto Ora è Buy contro buy Senza problemi Zero a 6.000 Crediti Altro che Botticelli Io lo chiamerei Medici Bello ricco Magnate Non mi scappe Ci sto contatto Fanboy smezzato Fanboy va giù Alan grande ulti Poi ci pensa le due Sì zero su Cesar Master Rincara Kuki e Mitez Kuki che non prende Byron E adesso in 4 contro 1 Mitez possono salvare L'unico che ha buy è Cesar Via il muro Dici bene Dici bene Mitez salvando Assicurerà una seconda arma Però butta male Questo è un match molto teso Davvero Ognuno Dei due team Sta strizzando il panno Dell'economia Fino all'ultima goccia Però Stiamo andando verso Un end game Che porta Imacco In trionfo Su carri d'oro E folla in delirio Sono un sacco Un sacco Di crediti che hanno Possono concedersi Anche una loss Stanno comunque Giocando da Una posizione di 11-9 Se perdono 11-10 Comprano tranquillamente Se riperdono Allora Solo allora Vanno all'eco La strada è lunga 9000 crediti per 0 Sul cap È il caso che compri lui Per Drust Ragazzi Fate comprare 0 Mi raccomando Che siamo su un giocatore Che ha il cap E un altro Che c'è molto lontano Come Drust Ok Sistemata la situazione Due giocatori Con doppio bye In realtà Di backup No 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 Arriveranno a giocarsi Tutti e tre I match point Prima che si arriva Il 12-12 Quindi all'overtime Con il bye E si arriva Il 12 Red West Prova a giocare Passivo Arriva anche Il tentativo Red West Di dare Passi all'avversario Fanboy Fanboy ucciso Bravo qui Master a dare una mano Il suo Due list Questi ore davanti Trova col bulldog La kill Pensa Drust Con la doppia Non doppia Ma singola kill Con la giocatore In confidenza Già Problemini Nel dover gestire Questo attacco Per i WLG Sotto di un uomo Si con tre ulti Fanno bene a giocare Retake Uno degli importantissimi Strumenti per andare A giocarsela Sull'attacco Schierato A difesa Della Spike Andare adesso A prendere Posizioni aggressive E rischia di essere Una perdita di una ultima Vuole rallentare la posizione Dei giocatori in attacco Buon timing Effettivamente Dietro yellow Si può giocare tranquilli Riesce bravissimo Zero Meraviglioso Allurcare Aspettare Stava sbagliando Un duello In lurking Pazzesco Ancora Con la posizione Di cookie E Da suo Spectre Sente la posizione Furia del cacciatore Sfraia Trova la kill Sise Poi vede la posizione Dietro yellow Attenzione qui Byron e draft Contro Sise Cookie Duello Tutto italiano Che parla In tutti modi Insieme Sise Che ha preso spazio Devono smingare Adesso Insieme Tutti no Byron Meraviglioso Sul reload Trust C'era Byron Ad alzare La saracinesca Copertura di yellow 12-9 Dicevo prima 3 match point Dei masco 3 possibilità Per i by Anche dovessero perdere Bisogna Davvero scalare Una montagna Super Super ripida Zero Il monte olimpo Zero è meraviglioso Zero è Io penso Che la venera Di botticelli Quello reale Che trovate agli uffizi Non sia bella Quanto zero oggi E ho detto Tanto Trovo allarme Innescato Poi su Drust Byron Treida Lo scambio Tra le due list Andrebbe anche bene Lg Scomporre pian piano L'attacco Tradando Può andare bene Soprattutto hai anche Modo di rimediare Al chip damage Arrivato su Mitez Con la cura di Westy C'è anche magari Volontà di prendere spazio Arrivare a poter fare La resurrezione Però La posizione è abbastanza Scomoda Potrebbe stare venendo Coperta da un attaccante Ok Fanboy torna tra i ranghi Dei WLG Uomo in più Ora per la difesa Guarda la posizione di zero Sì sì È così tanto avanti Che fa una scelta Eccezionale Blastorm Da parte di fanboy Qui Si troppano Zero ha sentito tutto Zero ha sentito tutto Ma viene ucciso da Mitez Vai per spinta a disposizione Spike online Chi lo vede Mitez Poi Cookie bravissimo Si pensa master A ricarare Però fanboy Bayron contro tutti Vale la pena provare Il miracolo Ci prova a colpire qualcuno Non può esimerti Bayron da provare a coprire Però era sì Uno contro quattro Come diciamo prima Però non è un problema L'economia di Machko È solida Possono continuare Ad acquistare Fino All'eventuale forzatura Dell'overtime Da parte dei WLG Tocca Mettere l'ultima Zampata Fondare il colpo Nel side Con Rolling Thunder Magari consegnare Il plant Ho un orb a zero In modo da poter Assicurare la spike Con una lockdown Anche perché È molto distante Sise Da Il nemico naturale Della lockdown Cioè La Hunter's Fury Che attraversano tutti i muri Può andare a distruggere L'ultimo ritrovato Tecnologico Rolling Thunder Si vola Si va dentro Sul Rolling Thunder Giustamente Westy fatto riposizionare Bravo E abbattuto da Dust Bravo Bravo A chiudere Ancora Drust Bravo Qui vede anche un altro Ma tripla Drust show C'è zero ora Che piazzata Zero Vedo il primo E ora anche il secondo Però Mitez Riesce metterci una pezza Sennò un po' Troppo ottimista Quella di zero Che si è lanciato Dalle box Ed è finito nel corsair Di Mitez Uno contro quattro Ha già vinto Un uno contro tre Mitez Trust Trust E i Masco Vincono contro i VLG E sono loro A raggiungere Il 3 a 1 E quindi raggiungere Gli Humble In questa lotta Fratricida Tra le due formazioni Sul 2 a 1 Masco 3 a 1 Per quindi dei VLG Che vanno sul 2 a 2 Abbiamo una classifica Molto compatta Siamo Molto contenti Di aver assistito A quell'upset D'apertura 17-15 In over time Da parte dei Clash Che vanno sul 2 a 2 È stato un thriller Come annunciava di essere Questo scontro Tra le squadre 2 a 1 Thriller Devo andare un po' Mamma mia Se andiamo indietro Hai menzionato Pacman Hai menzionato Una canzone di Michael Jackson Ti ricordo che Iniziano a esserci Spettatori Che non hanno La ben che minima idea Di che cosa fossero Gli anni 90 Quindi Dovremmo un po' Aggiornarci Dovremmo un po' Aggiornarci Con le quotes Con le citazioni Però Devo dire Non senza sudare I match co Ma convincenti Perché siamo comunque Di fronte ad un match Che poteva Celare delle insidie Specialmente se pensiamo Che i match co Settimana scorsa Avevano avuto Un paio di uscite Un pochino shaky Soprattutto Drust Che invece ha Credo conseguito Il titolo di MVP Credo che sia l'NVP Di questo game Perché ha veramente Performato bene Scusami tanto Ti ho interrotto No Ho fatto Ho fatto Un'altra cosa Che mi piace Far notare E vedere come Questi due team Hanno performato Comunque molto bene Tutte e due Assolutamente Questo ci fa Anche ben capire La posizione Della classifica Secondo me La parte media Della classifica Si potrebbe definire Una sfida Al momento a 7 I axolot Poverini Mi dispiace Ma sono 0-4 Vero Tutto è possibile Tutto è possibile La zona playoff Che comunque È abbordabile Ancora da tutti Siamo soltanto Al primo playday Della seconda settimana Sicuramente Dovremmo tracciare Un bilancio Già più serio E importante Alla fine Della terza E ultima settimana Di Super Week Però ancora oggi È presto Decisamente presto Abbiamo visto La prima vittoria Di GMT Che hanno sicuramente Rotto il ghiaccio In una situazione In cui Non stavano riusciando A performare Anche per motivi tecnici Al meglio Delle loro possibilità Ora però Parliamo un pochino Di Machco E di VLG Anche perché A breve avremo l'occasione Di porre delle domande A qualcuno dei Machco Chi ti auguri che sia? Un'altra Chi ti auguri che sia? L'intervistato per i Machco Drast Oh dateci Drast Piccola nota Perché non voglio dare Fake news Ai nostri ispettatori Figlia non ha fatto L'acropoli Ha fatto il partenone Di Atene Chiedo scusa Così almeno Ti lanci in queste quote Ma Ho riletto Dopo aver flammato I VLG Per l'apparizione Mi possono flammare Del Colosseo Un invidio sul rinascimento Anche Trulian Ha commesso Il passo falso Va bene Va bene Comunque Machco che quindi Si impongono Machco che avranno Tra l'altro Una settimana Molto tosta Se ben ricordo I Machco spetta anche I matchup Con I Desire Una settimana Molto importante C'è anche Machco Humble Credo Non abbiamo già visto Machco Humble Sto un attimo Ragazzi Wallcat Sta ricevendo Sono sotto l'influenza Di Etrurian Colpa mia Machco Humble L'abbiamo già avuta No No È questa settimana È un altro Dei match Orse tosti Domani Domani mi sei desai E dopo domani Ci sono Ok So che effettivamente Era molto difficile Io che ho sempre ragionato Sul mio fantavalo Un po' sul tema Dei matchup facili Questa settimana Non ne avevo Non avevo una squadra Della quale dicevo Ah guarda qua Che schedule morbida Lanciamoci a prendere Due player da questo team No infatti ho Cinque player Di cinque team diversi Zero l'EVP Non trust Effettivamente l'Everage Combat Score È un po' più alto Il KDA è migliore Ma vabbè Quello ci sta Perché il due list Deve raccogliere un sacco di morti E immolarsi per il team A prendere il site In compenso però Devo dire Bella performance Da parte Davvero di tutti quanti Machco Byron Sta facendo un lavorone Anche dal punto di vista Del gameplay Molto bene Mitetz Molto bene Westy Sinceramente di Westy Pensavo peggio A livello di stats Perché c'è stato Un break C'è stato proprio una Parte del secondo half Dove Westy moriva Sempre per primo Non riusciva a usare quella rest Non riusciva neanche a dare healing Ma Di questo match Discuteremo Con Masser Con Masser Dei Machco Che devo dire C'è un po' sorpreso Sul Bridge Eccoti qua Masser Direi che potete anche dirvi soddisfatti Avete raggiunto Una posizione Di prestigio Siete in questo momento Secondi a pari merito Con gli Humble Come avete vissuto questo match Perché comunque per noi Era il match of the day Comunque eravate le due squadre Sul 2 a 1 Con dei VLG sorprendenti Dici un po' le tue impressioni Ma allora Allora siamo partiti un po' Non dico spaventati Però sappiamo che comunque Entrando in questo match up Sicuramente prima della season Dovrebbe essere una win dritta E dall'altra parte Anche siccome abbiamo perso Contro gli Humble La scorsa settimana Non potevamo permetterci assolutamente Di lasciare andare una mappa Ok? Cioè comunque In vista dei match up Contro Desire Contro GMT Doveva essere assolutamente Un 3 a 1 per noi Sulla carta Dovrebbe esserlo gratuitamente Ma poi abbiamo visto Che appunto Sono belli pericolosi Ecco i VLG Quindi siamo arrivati Sicuramente un po' tesi Abbiamo avuto un po' di problemi Byron ha dovuto cambiare casa Zero adesso è in ospedale Quindi ci sta succedendo Lasciamo stare Zero? No nulla di che Preferisco non dire niente Che saranno fatti suoi Però in genere Ok 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 Spero nulla di grave Ok E niente Quindi appunto Queste sono un po' le sensazioni Post match Siamo comunque contenti Per la win E la testa è già domani Appunto Per vedere Giochiamo veramente Il nostro primo Big big match Quindi comunque C'è anche fatto Un gran servizio Nel riassumerci Quella gran scheda Perché per un attimo Perso sul vostro match Degli Humble Contro abbiamo già avvenuto Effettivamente sì Questa è una settimana Decisamente pesantuccia Soprattutto perché i GMT Si sono ritrovati quest'oggi Potrebbero essere Un cliente scomodo adesso Ho un'altra domanda Così per sapere Visto che L'esame comunque Zero è andato bene L'esame scolastico In questo caso Parlo di università Che tu sappia Sai che non mi ricordo Zero è sempre un po' criptico Su queste cose sai Perché dice sempre Boh non lo so È andato bene È andato male Va bene Poi vi domanderemo C'è un'altra domanda Perché tu devi sapere Che su altri titoli Io guardo molto La stanza Che è dietro a te Cosa Diamine ci fa Dietro una lavatrice Alla tua postazione Allora Allora fermi Questa è un'asciugatrice La lavasciuga Quella che metti Dentro i vestiti Che escono dalla lavatrice Comunque Perché questa È una stanza Che è vuota Cioè non c'è niente Tipo ci sono solo armadi L'asciugatrice E il computer E io ho sempre giocato Da qua per tutta la mia vita Quindi io non gioco Dalla camera Ma proprio la stanza Specifica Del computer Domanda molto veloce Quindi Visto che ci sono Non l'hai mai utilizzata Durante un'officio L'asciugatrice Sai che forse Sai che forse una volta Cioè quando Non giocavo a livelli bassini Capitava Che ovviamente Cioè quando giochi A livello amatoriale Gli ne sbatte Non gliene frega niente A mia mamma A prendo E fa partire l'asciugatrice Momento epico Vedi Antonio Chiama la mamma di Master Signora Signora Guardi Facciamo una cosa Durante le official Se azzare di aprire L'asciugatrice Gli fatti dico qualcosa Ma se risolviamo Un po' le sorti Di questa postgame Facciandoti una domanda Un pochino più tecnica Perché ti abbiamo visto Affidare ad Alan Il sova E andare Tu sul bridge Ti chiedo di Raccontarci un pochettino Il thought process Di questa decisione Allora I ruoli ce li scambiamo Molto io Alan Io su Fracture Gioco Sky Lui gioca bridge Io gioco bridge su Aven E anche su Icebox Diciamo che Cambia un po' proprio Per come impostiamo La mappa Nel senso Lui tendenzialmente Va sempre su un ruolo Che è un po' più standard Cioè nel senso Che deve fare Quello che fa Quel personaggio Normalmente sulla mappa Mentre io sono quello Che va a fare Dei lavori un po' più tricky Che poi Sono tutti quelli Su cui gira il plan Diciamo Quindi per esempio Per dire su Icebox Ovviamente bridge Non è un pick comune Siccome sono io L'ingame leader E siccome io voglio Impostare il gioco In una certa maniera Vado io a prendere Il pick Che è un po' fuori Dagli schemi Appunto per poter Perché comunque Quando vai a giocare Una comp del genere La grossa differenza Rispetto alle altre comp È il bridge Giochi in una maniera Completamente diversa E voglio appunto Avere il controllo Del personaggio Che fa la differenza Con le utility ovviamente Ok Ti ringrazio Dalla lucirazione Anche perché siete Uno dei pochi team Che sta facendo Estensivo uso Della Sky E quindi pensavo Quasi di Erroneamente Di relegare Alan Ad un ruolo Appunto di initiator Ma su quei pick Che giocano Un pochettino più La parte aggressiva Della initiation Quindi Sky flash Butto dentro Sì 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 Che più o meno Quello che succede Salvo quando vuoi Andare tu Su gli agenti Un pochino più tricchi Grazie Per dirti Su Fracture È un pick anche lì La Sky Molto esotico Diciamo E infatti Non so se ricordate Il primo match Contro gli Upleda L'abbiamo capito Esatto La Twitter L'abbiamo capito Un pick molto esotico Però appunto Andavo a giocare Un ruolo Che era molto particolare Nel senso Che prendevo i flank Usavo le flash Per flancare Eccetera eccetera Quindi sono delle cose Che vanno un po' fuori Da tutto quello che è standard E che mi prendo io Appunto un po' Per appunto Perché mi occupo Di leggere gli avversari Grazie Master Noi ti ringraziamo Sei stato gentilissimo Ti auguriamo Una buona serata Speriamo Che tutto vada per il Speriamo che tutto vada bene Che vada liscia la settimana Anche perché proprio adesso Doveva capitare tutto di questo Avete una delle settimane Forse più importanti Della prima parte Dello split Cioè che vada senza computer Zero Speriamo che vada tutto bene Zero Quando si parla di salute Non si scherza mai Assolutamente Speriamo vada benissimo E speriamo di ritrovarvi domani Al pieno della forma Va bene Grazie mille Ciao Buona serata Ce l'abbiamo fatta anche oggi Io Unica cosa Zero Speriamo veramente tutto bene Ti mandiamo una fraccione Fatti sentire Zero per favore Fatti sentire Master è stato Giustamente molto riservato Ma tu fatti vivo per favore Scrivi una roba in chat Scrivi Cioè Voglio sapere che tu stai bene Poi Beh allora Quel Il meme frittissimo Del tupolino Zero su Sentinel Zero su Yoro Me l'ha mandato Pochi minuti prima del game Quindi penso che stia bene Però tocchiamo ferro Zero Fatti sentire E poi sapere come è andata l'esame Comunque E sapere come è andata l'esame Giusto Noi speriamo bene Perché l'importante Lo studio è molto importante L'abbiamo aperta sotto una buona luce Questa seconda settimana di Valoran Challengers Italy Rinascimento Avevamo dei Gran Bay Match Quindi ci sta tutto il recappone di fine giornata L'upset che non ti aspetti L'upset che non mi aspettavo Non perché sottovalutiamo questi clash Abbiamo imparato a rispettare questa squadra Che ha performato divinamente Sin dalla prima settimana Ma da lì a darli per vincenti contro gli Humble Che erano allora 3-0 Ne passava E sono stati invece super clutch Nel portarsi a casa il match all'overtime 17-15 su Icebox Ha seguito il match dei Desire contro gli Axolot Non la sconfitta più rovinosa degli Axolot Non la vittoria più convincente dei Desire Ma intanto l'avete visto risultati palindromi 4-0 Desire, 0-4 Axolot GMT che invece trova una prima vittoria E grazie a questo è una settimana finalmente positiva Come ha detto Grigua Vincono contro gli NC Outplayed Che si trovano vicino agli Axolot Ancora non così distanti da quella top 4 Machco Vincendo contro i WLG Si trovano al secondo posto a pari merito Contro gli Humble In questa Icebox Dominante Non proprio Ma comunque Ben giocata Sì È stata una partita che era Effettivamente difficile dominare Questo lo riconosciamo L'ha detto anche il Bonmaster Questi WLG Cliente scomodissimo Beh la classifica al momento è sorprendente Permettimi Perché GMT o P Per molte Di quelle fantomatiche tier list Che andiamo a pescare ormai da settimane fa Dovevano essere tra le due squadre Che occupavano la parte alta della classifica E invece ritroviamo sull'1-3 Con tutte le disavventure che ci sono state Anche per gli Outplayed Che faticano evidentemente ad ingranare Dal punto di vista del gioco E che hanno addirittura Adoperato uno swap Ma Clash e WLG Temporaneamente a coprire uno spot da playoff Non ce lo saremmo aspettati Quindi siamo molto molto contenti Di esserci ricreduti Ed avere una Valorant rinascimento Così close Eccola la classifica Con WLG e Clash Che sono lì Probabilmente ci sarà poi anche lo scontro diretto Che ci dirà Poi guarda che bella Posso dire È bello cromaticamente Questo campionato Abbiamo davvero Un sacco di loghi Dai colori diversi Abbiamo proprio una bella classifica No 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 Mi stavo veramente Per una volta Mi stavo abbandonando A un'osservazione sciocca Ma è proprio bella cromaticamente Questa aveva una squadra in rosso Una squadra in nero Una squadra Abbiamo anche una squadra Un di colori particolarissimi Perché clashano quel tono di Cian particolare Gli Axolot con quel rosa Bellissimo Bellissimo Apparente Si avevo letto sul sito di Varolanti Sport Il fatto che i piccoli Assolotti sono così carini Penso che anche Nella prossima settimana Quando faranno il recappone finale Della settimana Diranno Assolotti così carini Ma sullo 0-4 Al momento Morenti Serve ancora qualcosina Devo dire la situazione Tra il coach Che lascia il roster Gli avvicinamenti Della panchina Il cambio panca Con Salmon E devono risalire Una bruttachina Guarda Se non altro Spezziamo una lancia In loro favore Hanno già scontato Anche dei matchup Tosti Perché hanno già preso Humble Hanno già preso Desire Insomma Dai I WLG Comunque abbiamo visto Domani la giornata sarà Clash Versus WLG Subito per partire Bangal match GMT contro Axelot OP contro Humble E Signori Desire Match Questo Bello Barto Beh devo dire Match of the day Difficile in realtà Come scelta Perché sicuramente Guardando alla Veta della classifica C'è Desire Match Ma forse il matchup L'altro matchup Molto close È quello D'apertura Ancora una volta Apriamo fortissimo Con i clash Li troviamo contro i WLG Per rompere Quella situazione Di parità Sul 2-2 Vedremo Cosa succederà Quindi domani L'appuntamento è come sempre Il 19 Qui su Twitch E su Youtube Avete modificato Potete vedere che sono tutti e due Cioè Noi non vi diciamo di no Fate come vi pare Ci sono due chat Quindi potete essere Ci sono due chat Ci date Una doppia visual Noi apprezziamo Facciamo crescere il movimento Facciamo crescere il movimento Parliamo di questa Valorant Challenge Di nascimento Parliamo del Valorant Che finalmente Occupa lo spazio che merita Sui pali sessi italiani Seguite social Valleague Underscore Et Hashtag Sognatori Perché noi siamo I sognatori Mi ha fatto tutto Tutto Possiamo andare a riposare Ci vediamo domani A ore 19 Ciao